Buongiorno a tutti, sono Pietro Zappamiglio, sono sindaco di Gorla Maggiore dal 1 giugno del 2015 e sono candidato per le elezioni regionali della Lombardia nella lista di Forza Italia. Sono qui nel luogo che più mi sta a cuore, cioè la nostra Valle Olona. Essendo sindaco di Gorla Maggiore, cercherò di portare le istanze del nostro territorio e della nostra valle in Lombardia. Sono qui proprio vicino al nostro fiume, che è il fiume Olona, a cui noi teniamo tantissimo e quindi cercheremo, per quanto possibile, di fare in modo che ci sia una vera riqualificazione e concreta riqualificazione del fiume Olona. Questo che cosa consentirà? Consentirà sempre di più di attrarre le risorse del nostro territorio e di fare in modo che la valle diventi luogo di aggregazione tra i tanti comuni che si affacciano sul fiume. A ciò si aggiunge che la valle è anche ricca di arte e cultura. Pertanto, già dal comune di Gorla Maggiore, insieme ad altri comuni, insieme all'associazione Ecomuseo, abbiamo cercato di fare in modo che l'ecomuseo diventi veramente una realtà di aggregazione della valle Olona e che porti quindi i suoi frutti al più presto.